Dio Onnipotente dice, ogni fase dell'opera di Dio, sia essa fatta di parole dure, di giudizio o di castigo, rende l'uomo perfetto ed è assolutamente appropriata. Dio non ha mai compiuto un'opera simile nel corso degli anni, oggi Egli opera in voi in modo che appreziate la sua saggezza. Malgrado abbiate provato la sofferenza, i vostri cuori sono saldi e in pace, è la vostra benedizione riuscire a godere di questa fase dell'opera di Dio. A prescindere da ciò che potrete ottenere in futuro, tutta l'opera di Dio che vedete in voi oggi è amore. Se l'uomo non sperimenta il giudizio e l'affinamento di Dio, le sue azioni e il suo fervore saranno sempre apparenti e la sua indole rimarrà sempre immutata. Tutto ciò significa essere stato conquistato da Dio? Oggi, malgrado ci sia ancora molta arroganza e presunzione nell'uomo, la sua indole è molto più stabile rispetto ai tempi passati. Dio ti tratta in questo modo per salvarti ed anche se provi un po' di dolore al momento, verrà il giorno in cui ci sarà un cambiamento nella tua indole. In quel momento guarderai indietro e noterai quanto si assaggia l'opera di Dio e quel momento arriverà quando saprai veramente comprendere la sua volontà. Amén. Amén. Si è ringraziato Dio. Leggendo questo passo, penso a quanto sia stata arrogante in passato. Nutrivo desideri smodati alla ricerca di fama e prestigio, in competizione con gli altri, senza la minima parvenza umana. Sperimentando il giudizio, il castigo e la disciplina delle parole di Dio, ho iniziato a comprendere un po' la mia natura satanica. Nel rimorso e disgusto per me stessa, sono diventata più umile e onesta. Ho avvertito che il giudizio e il castigo delle parole di Dio sono la salvezza dell'umanità. Amén. Amén. Vorrei condividere la mia esperienza. Che bello. Un anno dopo aver accettato Dio Onnipotente, sono stata scelta capo della chiesa. Essendo stata innalzata da Dio su incarico dei miei fratelli, ho pregato Dio per svolgere bene il mio dovere per ripagarlo del Suo amore. Subito mi sono immersa nel lavoro della chiesa. Quando gli altri erano in difficoltà, trovavo sempre qualche parola di Dio per aiutarli. E ci riuscivo, sebbene condividessi in modo superficiale. I fratelli e le sorelle dicevano che le mie condivisioni li aiutavano un po'. Siccome riscontravo dei risultati nel mio dovere, mi hanno incaricata di occuparmi del lavoro di diverse chiese. Ero emozionatissima. Quando afferravo le parole di Dio prima degli altri e quando vedevo che il capo mi elogiava, ero piuttosto confiaciuta di me stessa. Pensavo che il capo vedesse in me una persona con un vero potenziale, un talento indispensabile nella chiesa. Sono diventata sempre più arrogante e pensavo di possedere un po' di realtà della verità. Non ricavavo più nutrimento dalle parole di Dio e nei problemi non cercavo la verità. Ero altezzosa e trattavo con superiorità i miei fratelli e sorelle. Quando vedevo qualcuno limitato dalla propria indole corrotta non riuscire a svolgere il proprio dovere, non tenevo più condivisioni sulla verità per aiutarlo, ma lo rimproveravo con impazienza. L'opera di Dio è arrivata fino a questo punto, ma tu continui a godere della carne. Non temi di incorrere in disastri ed essere punito? Se non svolgi bene il tuo dovere, sarai eliminato. Vedevo che qualcosa li limitava e non volevano capirmi. Ma non riflettevo su me stessa, anzi, borbottavo che non stavano perseguendo la verità. Di lì a poco, un capo è venuto a una riunione. Ho pensato che fosse lì per promuovermi. Mi ha sorpreso sentirgli dire che il mio ingresso nella vita era superficiale, che le mie condivisioni non risolvevano i problemi e che non ero adatta all'incarico di capo. Le sue parole mi hanno scioccata. Avevo la mente vuota. Non so nemmeno come ho fatto ad arrivare a casa dopo. Ricordo che ho pianto per la strada e pensavo, mi sono data così tanto da fare, ma invece di avanzare, sono affondata. Cosa penseranno di me i fratelli e le sorelle? Forse non so occuparmi di un lavoro di tale portata, ma come posso rassegnarmi a doveri tanto inferiori? Per alcuni giorni non sono riuscita a mangiare né a dormire. Ero immersa nell'infelicità. Allora ho pregato Dio, chiedendogli di guidarmi per comprendere la Sua volontà. Dopo aver pregato, mi sono sentita molto più calma e ho letto queste Sue parole. Nella vostra ricerca, avete troppe nozioni, speranze e futuri individuali. L'opera attuale serve ad affrontare la vostra brama di prestigio e i vostri desideri eccessivi. Le speranze, il prestigio e le nozioni sono tipiche rappresentazioni dell'indole satanica. Ora siete seguaci e avete ottenuto un po' di comprensione di questa fase dell'opera. Tuttavia, non avete ancora messo da parte il vostro desiderio di prestigio. Quando il vostro prestigio è elevato, cercate bene, ma quando è basso, non cercate più. Avete sempre in mente le benedizioni collegate al prestigio. Perché le persone non riescono a uscire dalla negatività? Non è sempre a causa di prospettive cupe? Più cerchi in questo modo, meno mieterai. Più grande è il desiderio di prestigio, più seriamente si dovrà essere trattati e più grande è l'affinamento da affrontare. Questo tipo di persone è troppo indegno. Devono essere trattate e giudicate adeguatamente affinché possano lasciarsi tutto alle spalle. Se ricercate in questo modo fino alla fine, allora non mieterete nulla. Coloro che non ricercano la vita non possono essere trasformati. Coloro che non hanno sete della verità non possono guadagnarla. Non ti concentri sul perseguire una trasformazione personale sull'ingresso. Ti concentri sui desideri eccessivi e sulle cose che limitano il tuo amore per Dio e non ti fanno avvicinare a Lui. Queste cose possono trasformarti? Ti possono portare nel regno? La volontà di Dio mi era chiara dopo questo passo. Egli ha disposto quella situazione per trattare il mio desiderio di prestigio, per farmi riflettere su me stessa e intraprendere il cammino verso la verità. Amén! Amén! Mi sono chiesta se la mia brama nel perseguire e i sacrifici nella fede mirassero alla verità e a svolgere il dovere di essere creato. In realtà serviva a soddisfare la mia ambizione di essere migliore degli altri e non a perseguire la verità. Pertanto, una volta raggiunta una posizione, ero compiaciuta di me stessa e non tentavo di progredire. Una volta destituita, non ho riflettuto su me stessa. Ero negativa e incolpavo Dio. Ho pensato di rinunciare e tradirlo. Ero priva di coscienza e ragionevolezza, egoista e spregevole. Essere destituita era segno della protezione di Dio. Non avrei dovuto fraintendere Dio, ma cercare la verità per eliminare la mia corruzione. Giusto. Una volta compreso ciò, mi sono presentata a Dio e ho pregato. Oh Dio, non voglio perseguire il prestigio, ma sottomettermi alle Tue disposizioni, perseguire la verità e compiere il mio dovere per soddisfarti. Amén! Nei giorni successivi, mi concentravo sulle parole di Dio e riflettevo su me stessa. Se di nuovo rivelavo un'indole arrogante, pregavo Dio e rinunciavo a me. Mi sentivo molto meglio dopo aver praticato in questo modo. Sì, ringrazio a Dio. E interagivo meglio con i fratelli e le sorelle. Dopo qualche anno, sono stata nuovamente selezionata come capo della chiesa. Di lì a poco, la mia chiesa si è fusa con un'altra chiesa, quindi bisognava eleggere nuovi capi. Per questo motivo, il mio desiderio di prestigio si è riaffacciato. Avevo paura di perdere la mia posizione. Nelle riunioni con gli altri capi della chiesa, non trovavo nulla di straordinario nelle loro condivisioni sulla verità. Pertanto, pensavo che sarei stata scelta io come capo. Per assicurare la mia posizione e mostrare a più persone quanto fossi capace, mi sono offerta di affrontare alcune problematiche in una chiesa più debole, promettendo di risolverle velocemente. Mi tenevo occupata in riunioni quotidiane, tenendo condivisioni e risolvendo problemi. E nelle mie condivisioni parlavo di proposito di come avessi sempre svolto il mio lavoro, dei miei grandi successi e di come all'epoca fossi stimata dai capi. E poi parlavo intenzionalmente degli errori nel lavoro degli altri capi della chiesa per innalzare me e affondare loro in maniera velata. Ma Dio vede nel cuore e nella mente. E poiché ero mossa da motivazioni errate, Egli si è nascosto da me. Pur essendo costantemente impegnata, non concludevo nulla nel mio lavoro. Mi sono venute delle piaghe in bocca e provavo dolore, anche solo a bere. Soffrivo molto e pensavo che, da quando ero lì, non avevo risolto nulla e il mio lavoro non aveva raggiunto nessun risultato. Mi chiedevo come mi avrebbero vista i capi. Se avrebbero pensato che ero un incapace e se fossi stata destituita ancora prima delle elezioni, che umiliazione! Questo pensiero mi ha reso smaniosa di risolvere immediatamente tutti i problemi. Ma a prescindere da come tenessi le condivisioni, le cose si trascinavano come prima. Mi sentivo così tormentata. Potevo solo invocare Dio nella preghiera. Oddio! Sono caduta nelle tenebre e non comprendo nessun problema. Oddio! Devo averti sfidato. Perciò ti imploro di guidarmi. Sono disposta a pentirmi di fronte a te. Poi ho letto un passo delle parole di Dio. Avete la lingua e i denti degli ingiusti nelle vostre bocche. Le vostre parole e azioni sono come quelle del serpente che indusse Eva a peccare. Esigete occhio per occhio e dente per dente. E vi contendete posizione, fame e profitto in mia presenza, senza sapere che io sto osservando le vostre parole e le vostre azioni. Prima ancora che voi siate alla mia presenza, io ho sondato il profondo dei vostri cuori. L'uomo desidera sempre fuggire dalla mia mano ed evitare l'osservazione dei miei occhi. Ma io non ho mai schivato le sue parole o le sue azioni. Invece, gli permetto che tali parole e azioni entrino nei miei occhi in modo che io possa castigare la sua mancanza di giustizia e giudicare la sua ribellione. Così, le parole e le azioni segrete dell'uomo restano sempre dinnanzi al mio seggio del giudizio. E il mio giudizio non ha mai abbandonato l'uomo, perché la sua ribellione è eccessiva. Le parole di giudizio di Dio mi hanno fatta tremare. Ho ripensato al modo in cui avevo pensato e anche agito. Per assicurare la mia posizione di capo e avere l'ammirazione di tutti, sfoggiavo la mia capacità di risolvere i problemi attraverso la condivisione per dimostrare il mio valore, elevando me stessa e sminuendo gli altri. Trattavo tutti come fossero rivali, facendo ricorso a trucchetti. Non sembravo affatto una persona di fede. Non possedevo umanità. Ero forse diversa da un animale che si batte per un boccone di cibo? Ero così egoista e spregevole. Stavo compiendo il male e resistendo a Dio con le mie azioni e avevo offeso la Sua indole. Quelle piaghe dolenti e il non concludere nulla nel lavoro erano segno che Dio mi stava castigando. La Sua volontà prevedeva che riflettessi su me stessa, mi pentissi e cambiassi. Ho riflettuto sul perché perseguivo sempre la fama e il prestigio, mettendoli al di sopra di tutto il resto. Era dovuto al fatto che ero stata ingannata e corrotta da Satana. Ha usato l'istruzione e le influenze sociali per immergere il mio cuore in queste tossine e filosofie come «Chi lavora con la mente governa, chi lavora col corpo è governato. Sia al di sopra degli altri e onora gli antenati». Queste filosofie sataniche erano radicate a fondo nel mio cuore ed erano ormai la mia natura. Vivevo secondo questi veleni diventando sempre più arrogante e presuntuosa, adorando la fama e il prestigio, cercando sempre di essere superiore e migliore degli altri. Non trovandomi sul sentiero giusto, ma vivendo dentro quell'indole satanica corrotta, ero accecata e non vedevo i problemi. Non risolvevo i problemi degli altri e ritardavo il lavoro della Chiesa. Non stavo svolgendo il mio dovere, ma stavo compiendo il male. Mi sono prostrata dinnanzi a Dio e mi sono pentita. Dio, ho trascurato i miei doveri per la fama e il guadagno. Cercando di ingannarti, dovrei essere maledetta. Oh Dio, non voglio più essere così. Ti esprimo il mio pentimento. Amén. Poi ho letto queste parole di Dio. Poiché siete creature di Dio, dovete compiere il dovere di creature. Non ci sono altre prescrizioni per voi. Ecco come dovreste pregare. Oh Dio, che abbia prestigio o meno, ora comprendo me stesso. Se il mio prestigio è grande, è grazie alla Tua elevazione. E se è scarso, è a causa del Tuo decreto. Tutto è nelle Tue mani. Non ho nessuna scelta e nessuna lamentela. Non mi concentro sul prestigio. Dopotutto, sono solo una creatura trattante. Amén. Se mi hai mandato nell'abisso, nello stagno di fuoco e zolfo, non sono nient'altro che una creatura. Se ti servi di me, sono una creatura. Se mi perfezioni, sono ancora una creatura. Se non mi perfezioni, ti amerò lo stesso perché sono null'altro che una creatura. Amén. 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 Le parole di Dio mi hanno dato un cammino di pratica. Sia che venissi sostituita o che avessi prestigio, dovevo cercare la verità e svolgere bene il mio dovere. Amén. Amén. E mettere in pratica la verità e liberarmi della mia indole satanica. Poi ho corretto le mie motivazioni nello svolgere il mio dovere e mi sono acquietata dinnanzi a Dio per leggere le Sue parole. Ho messo i problemi della Chiesa nelle Sue mani, rivolto lo sguardo a Lui e cercato la verità. Quelle problematiche nella Chiesa sono state risolte molto velocemente. Sia che ringrazio a Dio. Ero colma di gratitudine verso Dio. Egli è così reale, così amabile. Amén. Ed è stato al mio fianco disponendo ogni cosa per purificarmi e trasformarmi. Amén. Sia che ringrazio a Dio. Ho capito quanto sia essenziale per seguire la verità e modificare l'indole nella mia fede. Sì, si è ringraziato Dio. Sei mesi dopo, mi è stata affidata la responsabilità di altre chiese. Sapendo quanto fosse forte il mio desiderio di prestigio e arrogante la mia indole, ho pregato Dio con cuore sincero, così da poter correggere le mie motivazioni a lavorare bene. All'epoca facevo coppia con sorella Wang, che aveva una prospettiva chiara sulle problematiche e gestiva i problemi con maturità. Le chiedevo consiglio spesso e imparavo dai Suoi punti di forza. Dopo qualche mese così, ero migliorata nella condivisione sulla verità per risolvere i problemi e nello svolgere vari lavori della chiesa. I fratelli e le sorelle mi ammiravano. Senza accorgermene, ho iniziato di nuovo a compiacermi di me stessa, pensando che, seppure nuova nella fede, fossi brava quanto sorella Wang, che fossi migliorata nel gestire le problematiche, che la mia levatura fosse cresciuta. Non mi rendevo conto che la mia arroganza si stava ripresentando a ogni occasione e il mio desiderio di prestigio era tornato. Pretendevo che sorella Wang mi ascoltasse in ogni cosa. Non sopportavo di vedere che gli altri approvavano le sue condivisioni o che lei prendesse il comando nelle questioni della chiesa. Sentivo di aver fatto un po' di pratica e di aver accumulato esperienza, di non essere una novellina incapace e che la mia levatura era pari alla sua. Eravamo entrambe capi. Allora perché lei comandava e io dovevo ascoltarla? Così non sarei stata un capo solo di nome e non di fatto? Ho iniziato a impegnarmi nel lavoro e a dotarmi delle parole di Dio per surclassarla. E mentre discutevamo con i nostri collaboratori, quando lei esprimeva un'opinione, io di proposito facevo la pedante, trovandovi dei difetti. Condividevo la mia idea brillante per affondare lei e innalzare me. Un po' di tempo dopo, mentre si discuteva del lavoro, alcuni collaboratori hanno apprezzato le mie idee e hanno iniziato a venire da me e ad ascoltare i miei suggerimenti. Mi piaceva tantissimo vederli tutti così accalcati, tutti attorno a me. Più avanti, sorella Wong non poteva più uscire perché il PCC la stava monitorando, quindi io sono diventata l'unica responsabile. Non mi sentivo sopraffatta dal lavoro, anzi, ero molto rilassata e pensavo di poter avere l'ultima parola su tutto. Ho capito che il mio modo di pensare non era giusto, ma non riflettevo su me stessa e non la prendevo sul serio. Un giorno un capo mi ha detto di recarmi a un raduno in un'altra zona e che solo una decina di noi erano stati selezionati, anche se era una regione ampia, e ho sentito che sarei stata promossa. Sentivo davvero di essere qualcuno, di essere la creme della creme nella nostra regione. Sono salita su un treno con altre quattro sorelle e con l'umore alle stelle, ma lungo il tragitto è accaduto qualcosa di inaspettato. Siamo state seguite e arrestate dalla polizia del PCC. I loro interrogatori sono stati infruttuosi, quindi mi hanno condannata a due anni di lavori forzati per aver usato un'organizzazione si e zia o per compromettere l'applicazione della legge. Dopo la condanna, ho attraversato un periodo difficile. Nel mio cuore spuntavano dubbi su Dio. Perché sono stata arrestata quando stavo per essere promossa? Così Dio sta tentando di mettermi a nudo e di eliminarmi? Non potrò più svolgere il mio dovere ed essere salvata? Soffrivo così tanto ed ero così smarrita. Molte volte ho pianto e pregato Dio. O Dio, ora non comprendo la Tua volontà. Sembra che Tu mi stia rifiutando che non mi voglia. Dio, Ti imploro di illuminarmi per comprendere la Tua volontà e per capire come accedere alla verità in questa situazione. Ringrazio Dio per aver ascoltato la mia preghiera. Un giorno, una sorella che era nel mio braccio mi ha passato di nascosto un biglietto con alcune parole di Dio che aveva trascritto. Sì, ringraziato Dio. Le parole erano… Per tutte le persone, l'affinamento è straziante e molto difficile da accettare. Ma durante questo processo, Dio rende palese la Sua indole giusta nei riguardi dell'uomo. rende pubblici i Suoi requisiti per l'uomo e fornisce una maggiore illuminazione, più potatura e trattamento effettivi. Attraverso il confronto tra i fatti e la verità, Egli concede all'uomo una maggiore conoscenza di se stesso e della verità, una maggiore comprensione della Sua volontà, facendogli sperimentare un amore per Dio più vero e più puro, questi sono gli obiettivi di Dio nell'affinamento. Tutta l'opera che Dio compie nell'uomo ha i propri scopi e il proprio senso. Dio non compie opere senza senso o che siano prive di beneficio all'uomo. L'affinamento non significa che l'uomo venga allontanato dal cospetto di Dio e nemmeno che Egli venga distrutto nell'inferno. bensì significa un cambiamento dell'indole dell'uomo, delle sue motivazioni, dei Suoi vecchi punti di vista, del Suo amore per Dio e della Sua intera vita. Per l'uomo, l'affinamento è una vera prova e una forma di autentico addestramento. Solo durante l'affinamento, l'amore può svolgere la Sua funzione intrinseca. Amen! Si è ringraziato Dio! Il mio cuore si è subito illuminato. Quella situazione era una prova da parte di Dio. La Sua volontà non era eliminarmi, ma rendermi migliore per riflettere su me stessa e accedere alla verità. Giusto. È così. Sapevo che non potevo più essere negativa e basarmi sulle mie nozioni e fare congetture sulla volontà di Dio. Sì. Invece dovevo cercare la verità e riflettere su me stessa con sincerità. Amen! Una notte non riuscivo a dormire e mi chiedevo perché Dio avesse permesso che mi accadesse questo. Ho pensato alle Sue parole. Odiate veramente il gran dragone rosso? L'odiate realmente e sinceramente? Perché ve l'ho chiesto tante volte? Perché continuo a porvi questa domanda più e più volte? Mi sono chiesta ripetutamente Odio davvero il gran dragone rosso? L'odio davvero sinceramente? Ho pensato a questo passo dei sermoni e comunicazioni sull'ingresso nella vita. Alcuni dicono Ho rinunciato al gran dragone rosso. Mi opprime e ora lo detesto. Puoi rinunciarvi a parole, forse, ma non puoi rinunciarvi con il cuore. Forse, nel tuo cuore lo odi. Ma il tuo comportamento e la tua natura sono ancora sotto il suo controllo. Questo accade perché i veleni, i pensieri e i punti di vista del gran dragone rosso, le sue filosofie e concezioni sulla vita fanno presa sul tuo cuore. Il tuo modo di vedere le cose è ancora il suo modo di vedere le cose. I tuoi pensieri, le tue concezioni sulla vita e sulle cose sono i suoi. Appartengono al gran dragone rosso. Perciò, tu sei ancora in suo potere. Se davvero vuoi sfuggire all'influenza di Satana, devi depurarti completamente di tutti i veleni satanici che hai dentro di te. Alla luce di queste parole, mi sono resa conto che odiavo il gran dragone rosso perché perseguitava i fratelli e le sorelle e perché sabotava l'opera di Dio. Ma quelli non erano vero odio e vera rinuncia. Sì. Si può odiare veramente solo se si comprende appieno la sua essenza malvagia e reazionaria, così che possiamo odiarlo sinceramente sin dal midollo e rinunciare alle sue tossine presenti in noi. Giusto. Sperimentando l'arresto, la persecuzione e la tortura per mano del gran dragone rosso e venendo indottrinata con la forza, ho compreso davvero che è un demone che odia la verità e odia Dio. Sì. Ho visto il suo orrido volto di corruttore degli uomini. Giusto. Sostiene strenuamente l'ateismo e il materialismo. Determinato a negare l'esistenza di Dio per mettere in mostra a se stesso in quanto essere grande, glorioso e giusto. Si autocelebra come il salvatore del popolo e pretende che tutti lo adorino come se fosse Dio. Sì. Nella speranza di sostituirlo nei cuori delle persone. È vero. Il gran dragone rosso è così spreggevole e malvagio. Sì, è vero. È vero. E ho compreso che la mia essenza era sostanzialmente al livello della Sua. Dio mi ha innalzata, permettendomi di praticare come capo e di risolvere problemi con la condivisione così che gli altri potessero conoscerlo. Ma io ho usato quell'opportunità per mettermi in mostra il più possibile, pretendendo l'ammirazione degli altri e l'obbedienza. Così facendo, non mi stavo opponendo a Dio? Sì. Ero invidiosa di sorella Wong e la escludevo, accanendomi sulle sue colpe e sminuendola. Volevo farla destituire in modo da avere l'ultima parola nella chiesa. Non mi comportavo da dittatore. Non ero sotto i veleni del gran dragone rosso, come ci può essere solo un maschio alfa e io sono il mio Signore in cielo e in terra. Sì. I decreti di Dio dicono l'uomo non dovrebbe magnificare né esaltare se stesso, dovrebbe invece adorare ed esaltare Dio. Ripensando a quello che avevo ostentato, come avevo svolto il mio dovere? Compivo il male e resistevo a Dio. Da tempo le mie azioni violavano i decreti di Dio. E se Egli non mi avesse disciplinata, se non avesse usato quella situazione per fermare il mio cammino malvagio, se avessi perseguito secondo la mia natura, sono certa che avrei fatto qualsiasi cosa per il prestigio, fino a compiere una grande malvagità ed essere punita da Dio. Esatto. Rendermene conto, è stato come aprire finalmente gli occhi. Ero arrivata a un punto pericoloso, ma ero stata ignara. Il mio arresto mi ha costretta a riflettere su me stessa e a conoscermi. Senza quel diavolo, il dragone rosso, a ostacolarmi, probabilmente non avrei compreso quanto del Suo veleno avessi dentro di me, che in realtà sono della Sua specie. Non sarei stata in grado di rinunciarvi e di cercare di liberarmi dal Suo veleno. Ho capito che ogni cosa fatta da Dio serviva a purificarmi e l'ho ringraziato per avermi salvata. Amen. Si è ringraziato Dio. In carcere, ho riflettuto molto su me stessa e mi sono pentita di non aver approfittato di svolgere il mio dovere, ma per fama e prestigio avevo vissuto in base ai veleni di Satana. Ho agito contro la verità e danneggiato gli altri e ho ostacolato e disturbato il lavoro della Chiesa. Avevo danneggiato Dio così tanto. Ero in debito e colma di rimpianto. Allora ho voluto perseguire la verità e sperimentare il giudizio e il castigo di Dio per liberarmi da quei veleni e vivere una parvenza umana. Amen. Amen. Una volta uscita di prigione, ho ripreso a svolgere il mio dovere e quando sono stata eletta come capo della Chiesa, non mi sentivo compiaciuta e orgogliosa come una volta. Anzi, sentivo la responsabilità, l'incarico che Dio mi stava affidando e di cui fare tesoro e che avrei dovuto fare tutto il possibile per perseguire la verità. Amen. Si è ringraziato Dio. Essere castigata e disciplinata più volte ha destato la mia anima che era stata raggirata da Satana. Amen. Solo perseguire la verità è un cambiamento nell'indole e svolgere bene il dovere di un essere creato sono le cose giuste. Amen. Il mio desiderio di fame e prestigio non è forte come un tempo e sto diventando sempre meno arrogante. Sì, ringraziato Dio. Riesco a lavorare bene con gli altri e a svolgere adeguatamente il mio dovere. Fantastico. E vivo una qualche parvenza umana. Amen. Sì, ringraziato Dio. Ora sento nel profondo che quel piccolo cambiamento non è arrivato facilmente. Amen. Ciò è accaduto grazie al giudizio e al castigo delle parole di Dio. Amen. Grazie a Dio Onnipotente che mi ha salvato. Amen. Grazie a Dio Onnipotente. Grazie a Dio Onnipotente. Grazie a Dio Onnipotente. Grazie a tutti.